Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light, in questo video vediamo come aumentare gli FPS e rendere il più fluido possibile il gioco di Fall Guys per PC che da poco è stato inserito gratuitamente da ottenere su Epic Games Launcher. Per chi non lo sapesse, adesso ragazzi potete andare a riscattarlo. Comunque vediamo subito come aumentare gli FPS su questo gioco senza programmi e in maniera molto semplice. Il primo trucco è quello di andare nelle impostazioni del PC, cliccare su Sistema, andare in basso su Impostazioni Grafica, attivare la pianificazione GPU con accelerazione Hardware, andare in basso, cliccare su Sfoglia, andare sul disco dove abbiamo installato Fall Guys, cartella Programmi, Epic Games, aprire la cartella con il nome del gioco Fall Guys e fare due clic su Fall Guys Client Game. Una volta fatto vi appare qui in basso, noi dobbiamo cliccare su Opzioni e impostare Prestazioni Elevate. Una volta fatto cliccate su Salva e potete chiudere. Adesso ragazzi avviamo Fall Guys e andiamo in alto nelle impostazioni oppure potete premere ESC per accedere a questo menu. Noi dobbiamo andare su Opzioni e modificare alcune di queste. Iniziamo partendo da Video perché la regione è già impostata in Automatica, quindi partiamo da Video. Su Predefinito ovviamente lasciamo Personalizza, ma su Risoluzione, se proprio non riusciamo con la nostra attuale risoluzione ad avere molti FPS e quindi comunque laggiamo, il mio consiglio è quello di impostare 1220x720, perché di solito questa risoluzione è l'ideale per quei computer che non reggono molto bene i giochi in generale. Con questa dovreste riuscire a trovarvi bene. Al massimo, se non vi va bene neanche questa, potete diminuire e provare con le altre. Minore è la risoluzione, più FPS farete, ma la qualità estetica sarà minore e quindi di conseguenza gli effetti visivi e la qualità di gioco sarà più bassa. Questo però con il compromesso di potervi dare più FPS. Io lascio la 1920x1080 perché mi va benissimo. Su Finestra ovviamente lasciamo Disattivato, su Sincronizzazione Verticale invece andremo a Disattivarlo. Frequenza FPS lo impostiamo sui 60 o 61. Dettagli trama, ovviamente mettiamo media risoluzione, dettagli ombre bassi, effetto mosso disattivato, alone disattivato, profondità del campo disattivato, occlusione ambientale nessuno, filtro anisotropico disattivato, anti-alising FXAA oppure nessuno nel caso non ci fossero cambiamenti. Riflessione dello spazio su schermo, nessuna, sfondo lobby statico disattivato. Il resto lo lasciamo così com'è e salviamo, premendo la barra spaziatrice. A questo punto torniamo indietro con ESC e ragazzi possiamo fare una partita. Ovviamente con le impostazioni che vi ho fatto inserire avremo minore qualità grafica ma vi assicuro che noterete dei cambiamenti nelle prestazioni. Infatti avrete maggiore FPS, minore lag e vi potrete divertire di più. Fatemi sapere nei commenti se vi sono stata d'aiuto, se si lasciate un like. Ciao e alla prossima da MiriLight. Ciao e alla prossima.